Mi chiamo Marina, ho mio papà che è sepolto al cinerario da 13 anni, però non possiamo andarlo a trovare da 6-7 anni, è una vergogna immensa. Mia sorella Miriam ha mandato lettere dappertutto, ma non riusciamo che aprano, adesso c'è anche mia mamma dentro là da tre settimane e non so quando andremo a trovarli, è una vergogna infinita. Nonostante l'invito a portare pazienza ne varrà la pena, suggerito dal cartello davanti al cantiere del cimitero maggiore, la pazienza dei vicentini invece sembra proprio essere agli sgoccioli. La nuova segnalazione sul protrarsi dei lavori al cinerario della nostra telespettatrice Marina testimonia quanto si è attesa la consegna alla cittadinanza di questo importante servizio. Come ci aveva testimoniato la signora Miriam all'indomane della festa dei defunti lo scorso autunno. Penso che sia dal 2014-2015 che è chiusa. Io ho mio papà lì, è stato sepolto nel 2009, da lì non siamo più potuti entrare. Quando si potrà vedere finita o entrare a portare un fiore ai nostri morti che sono lì? Il tetto da risanare di quest'area del cimitero monumentale è ancora la causa delle lungaggini. Il suo restauro è vincolato dalla soprintendenza che avrebbe richiesto vari supplementi di indagini conoscitive sul manufatto prima di intervenire. I lavori, complicati anche dalla pandemia, sembrano proprio non avere fine. Al momento, nonostante l'alto valore artistico dell'edificio, la situazione per i cittadini è indecorosa. È diventato un deposito delle bare che aspettano di essere cremati e non mi sembra giusto, insomma, perché c'è parecchia gente là dentro. Non mi sembra giusto privare i familiari di andare a trovare i loro cari e di andarli a salutare. Ecco, è una cosa... le dico sono 6-7 anni. Indegna proprio, indegna. Ringraziando la signora Marina per la segnalazione, torneremo nuovamente alla carica per presentarla a chi di dovere e cercare di ottenere risposte. Quindi non finisce qui, ma continua.